Ciao ragazze e benvenute in questo video allenamento che inizia a casa perché vi devo far vedere il mio pre-workout e ci tengo tantissimo perché voi mi chiedete sempre insomma anche suggerimenti su come stare in forma e su come migliorare la tonificazione e tutto allora ragazzi io sto prendendo le caps di Natural Mojo, le Diet Caps e le Fit Caps di cui vi ho parlato già altre volte e sono veramente fenomenale, mi trovo davvero davvero bene, voi spesso mi chiedete anche nei commenti dei messaggi quali vanno meglio per me, quali mi suggerisci io le uso entrambe perché comunque una non esclude l'altra, hanno proprietà diverse e complementari perché le Fit Caps servono queste qua per accelerare il metabolismo e bruciare più grassi quindi magari le prendete o prima di allenarmi come io adesso le prenderò tipo mezz'ora o un'ora prima di allenarmi poi mi vado ad allenare così intensifico il mio workout e brucio più grassi quindi è un pre-workout molto molto buono contengono tutti ingredienti naturali che mi danno anche molta energia e oppure per quei giorni in cui mangio, mangio molto e voglio quindi bruciare più in fretta magari non mi alleno le prendo durante i pasti invece le diet caps o diet caps insomma comunque queste sono sempre di natural mode sono veramente ottime, queste contengono soltanto un ingrediente la radice di konjac, sempre naturali e queste qua le prendo prima dei pasti perché servono per darmi senso di sazietà quindi evitare attacchi di fame, evitare di mangiare troppo sapete quando avete proprio quella fame che non vi riuscite a saziare se dovete perdere peso le potete prendere assieme anche tutti i giorni se invece come me dovete solo stare in forma e comunque migliorare il tono muscolare, eliminare la massa grazza e tonificare il corpo potete prenderle anche non tutti i giorni ma soltanto appunto quando magari ad esempio le Fit Caps quando vi andate a fare una corsa e volete bruciare di più oppure le diet caps quando magari avete proprio tanta tanta fame e dite oddio se magari siete anche un po' nervoso oppure pre-ciclo ragazzi, pre e durante il ciclo e così vi saziano la cosa bella è che sono naturali quindi io ve le straconsiglio come al solito per tutti i prodotti natural mojo voi usate il mio codice sconto carditadolce20 sul sito natural mojo così avrete il 20% di sconto, il che non è poco e potete provare queste due caps e vi consiglio anche il carb blocker veramente non vedo l'ora di provarlo perché è una cosa proprio innovativa e praticamente il carb blocker serve per le amanti dei carboidrati come me pizza, pasta, riso, anche quando vai tipo allo yukenite e ti sfondi di sushi e con il carb blocker eviti che tutti gli effetti dei carboidrati possano depositarsi sul tuo corpo quindi diventare dei grassi, farti ingrassare quindi puoi concederti anche tanti tanti carboidrati ecco io lo uso sempre per discorso che comunque io non devo perdere peso ma voglio solo stare in forma però voglio anche concedermi una bella pizza ma anche due pizze all you can eat da 20 ordinazioni e allora prendo il carb blocker per bloccare quindi quello è il discorso poi voi ognuno ha la sua esigenza però l'importante è che sono tutti i prodotti naturali che io ho provato e vi straconsiglio quindi carditadolce20 sul sito natural mojo anche le proteine prendo di natural mojo lo sapete, adoro, adoro tutti i prodotti natural mojo e adesso mi vado ad allenare perché ovviamente, fatta tutta questa premessa è la per dire che ovviamente quello che funziona questi sono degli aiuti, ok, sono prodotti naturali sono aiuti che funzionano, quindi ve li consiglio sono collaudati, ok però due cose funzionano alimentazione sana, almeno quasi sempre a parte sgarri e ce ne fuori e allenamento lo sapete, funziona questa combinazione di cose quindi è importante soprattutto allenarsi per se stessi per stare in forma per sentirsi bene più attivi, più forti quindi adesso vi porto con me in palestra vi faccio divertire un po' e facciamo questo super workout che ci fa tanto tanto bene eccole qua le way vanilla queste le prendo come pre-workout soprattutto quando non è il tempo di fare uno spuntino proteico oppure se è stato qualche pasto per raggiungere la mia quota proteica consigliate anche vegani ve le stranozio sono buonissime e sano di vaniglia piccola vediamo cosa c'è a mamma c'è arrivato un pacco che bello qualche belle cose a mamma finalmente carb blocker le aspettavo da una vita natural mojo queste sono una cosa troppo innovativa che per un amante dei carboidrati come me sono veramente una manna dal cielo raga adoro adoro troppo poi la choco dream c'è praticamente un rifornimento da natural mojo di tutti i miei prodotti preferiti che consumo come acqua questa l'adoro raga l'adoro troppo la metto un po' nella mia cremina al cacao e mi viene ancora più dolce oppure ci preparo la cioccolata calda poi la metto nei dolci è buonissima veramente è sempre tutto light sano però buono poi le diet cups già le conoscete me ne ho parlato tanto aiutano tantissimo chi come me ha sempre fame a placare questa fame da lupo poi qua dentro ah questa è troppo carina qua dentro c'è la tazza questa l'avevo vista oh mio dio che mi casca questa l'avevo vista sul sito togliamo la carta è troppo bella è semplice però è bellissima e sopra c'è scritto healthy is happy proprio la mia filosofia di vita sano e felice perché comunque mandare sano e avere uno stile di vita sano ti rende anche più felice più di buon umore e con questa veramente mi farò delle belle tisane adoro però anche per metterci il latte va bene poi cos'altro c'è ah il workout booster questo è un prodotto che io uso sempre soprattutto pre workout oppure tipo bolero per dolcificare l'acqua e per renderla più buona per chi non beve tanta acqua questo ti aiuta tanto a bere e ti dà energia prima dell'allenamento io mi sento spesso cioè avrei bisogno tipo non so di integratori però non mi piace di prendere troppe cose allora prendo questo che comunque è naturale e mi dà l'energia anche per affrontare la giornata e l'allenamento perché a volte boh mi cala la palpebra comunque rendo meglio quando lo prendo nell'allenamento mi sono accorta e poi il beauty nuovo tea red blossom non vedo l'ora di provare yeee quante belle cose pupi la vuoi la pappa la vuoi la pappa mamma madonna quanto sei bella madonna quanto sei bella quanto sei bella amore di mamma cosa dobbiamo fare il fallo vedere quello che ti piace tanto workout booster questo raga è un pre workout fantastico di natural mocio sempre raga ve ne innamorerete pensate che dario amore vuoi dire tu cosa fai con questo diglielo questa è la mattina lo mettono in questa mattina e beve più acqua cioè lui praticamente lo usa per dare sapore all'acqua e così si rende conto che lui beve più acqua aggiungendoci questo ed è più buono quindi è un segreto per bere più acqua comunque questo è un integratore pre workout che contiene sempre ingredienti che danno energia e comunque aiutano a perdere peso e io questo l'ho fatto guardare anche al mio pt e lui ha detto prendilo una mezz'oretta prima di allenarti quindi adesso praticamente ci metto lo metto nell'acqua e lo bevo e mi trovo da dio ho molta più energia quando mi alleno oppure potete utilizzarlo come fa dario ce lo aggiunge all'acqua di modo che viene un'acqua saporita ai frutti rossi e bevete più acqua piccolo segreto per chi non beve vero amore che dario non beve ecco qua lui praticamente sta aggiungendo vedete la polverina la polverina e poi ci mette l'acqua e io lo bevo si scioglie automaticamente e sta tipo di frutti rossi di fragola e queste cose qua troppo bello è profumato è saporitissimo ah ecco agitate così io volevo far vedere gli ingredienti profilo nutrizionale contiene tutte queste cose anche proteine e vitamine ed è super naturale io lo adoro raga cioè praticamente questo assieme alle Fit Cups sono il mio pre-workout amore com'è? è dare lo zucca a tutto buono mi giuro se fare l'ordine sul Natura Mojo prendetelo perché ve ne innamorerete è uno dei prodotti che must have dell'ultimo periodo c'è pure il guaranà esatto ecco perché dà molta energia e poi è buonissimo sa tipo di non so di lampone di mirtillo è buono frago un po' di misto di frutti top e adesso ci andiamo ad allenare ragazzi adesso incomincia l'allenamento 5 minuti di step ragazzi si parte con l'allenamento di Carlita raga lo step lo faccio perché serve per tonificare il culetto e ingrandirlo un po' lo odio adesso facciamo addome adesso sto facendo hyper extension grande allenamento e cominciano i ganchi la raga praticamente io faccio hyper extension alternato alla crunch quindi tre serie di hyper extension caricando adesso caricherò per due volte e crunch machine a max quindi quanti più ne riesco a fare per fare un addome di ferro ragazzi questo è plank dalle quante è brava sta ragazza carlita ballerina crunch machine forte guardate come è forte essendo coscia prima è una specie di riscaldamento poi dopo facciamo la serie e proprio carichiamo adesso piccolo leggero ragazzi abbiamo aumentato il peso questo esterno coscia il peso è stato aumentato adesso questa è la scalciata ragazzi ora slanci guardate che precisione ragazzi ragazzi questo si fanno sei slanci cinque secondi a trattenere sei slanci cinque secondi a trattenere di nuovo sei slanci senza mai cosare la gamba ragazzi sempre esterno coscia questa è la gluteus machine ragazzi questo è sumo sport sei per otto vai man mano carichiamo man mano carichiamo i pesi abbiamo caricato guardate 14 kg adesso si parte sei 20 kg ma chi è ma chi è per crescere il culo questo è l'asco è un'atletanata questo è culo e un terrobo ragazzi adesso adduttori questo facciamo apertura sei volte e poi cinque secondi blocchiamo senza mai cosare le gambe di nuovo apertura sei volte al massimo deve andare tutto qua ragazzi interno coscia fondamentale perché sempre faccio a tutte le donne non dite che non avete vinto una cosa faccio perché adesso dopo sei di nuovo tratteniamo di bruciare tantissimo cinque secondi e poi altri sei tutto questo tre volte ragazzi questo come fine allenamento è la falcata sarebbe la camminata in salita e la sota i glutei ciao ragazzi adesso vi salutiamo perché l'allenamento è finito perciò ragazzi in gamba vogliamo tutti in forma adesso andiamo a mangiare adesso andiamo a mangiare ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.